eccoci in una nuova puntata su breakout oggi vedremo l'area del castello siamo alla quarta aria e quindi iniziamo allora vediamo un po' qua fatemi ricordare potremo tre livelli tre livelli per oggi eccolo lui sul ponte elevato un drago il tuo amico il castello beh devo salutare due ponte elevato i cavaliere stanno proteggendo il castello sparazziamoci dei cavalieri per colpire i cavaliere bisogna o buttarli nel fiume o colpire da lì e poi a sbattere i cavaliere e poi a sbattere i cavaliere non mancava ecco ah mannaccia così 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 sbattere l'opertura con una torruga oh no che maya pietta Ah, quello stronzo in grado. I cavalieri con lo scudo, con il drago solito. E i pensori del drago. Questo strozio. Niente, è tozzo, è tozzo. Stanno messe in una posizione che dovrei aspettare. Dai. Sì. Fatta, fatta. Scriva via quel cavendino. Mi sono rimasto solo fatto. Si possono anche buttare giù dal ponte elevato. Un mio assoluto. Mi sono fondamentale di lato. O cavallo. O cavallo. O cavallo. Prima non voleva fare questo. Che poi si sposta. Quella non esiste. Eh. Una volta che seller sono dipisi del tio. Nel se ne va tutto. Che bello. ah peccato ecco qua dove è? è tornato il gioco? ne è accanto al foglio sta dai 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 ah va a saltare questo stronzo siiii l'acqua mannaggia lui sta messo eeeecco qua vai e entriamo dentro il castello e andiamo dai come va la canzone questa? il drago quei tavogneri stanno... ti guardi alle mule e al drago ora non si torna più indietro le mura eeeecco qua così si moltiplicano le palle la moltiplicazione delle palle e delle panne e di soltanto le palle vuota sono diventato dei il controllone va ma qualcuno non lo voglio e una palle in più basta far andare la palla dietro dove sta il drago che succede un bel caso eeeecco qua la pancia del drago palla di fuoco dimuo vadovi eeeecco 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 nooo e però c'è cinque armi non eeeecco 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 bisogna per affalzare un po' perché nooo mi ha fregato dal dame Loro sono due portieri vicino a qualche spingerti, guarda! Questo non l'avrà detto più. No, andiamo alla velocità della luce. La velocità della luce. Eccolo qua. Sono obeso. I cavalieri stessi stanno in una merda. Eccolo qua, bravo, bravo come salta! Cosa sta succedendo? Guarda dove stanno ricostruendo le cose. Dei senni. Perché non passi? Presto sbrigati qui! Ma a te stesso! Questo sarà l'ultimo livello. Non ricostruiremo nulla. Mi entrare sulla luce. Non ricostruiremo nulla. Mi troce con continuo. Eccolo qua! Mi troce con continuo. Eccolo qua! una pala da qui deve sempre vantare Ah! Oh! Troppo volo! Dai, tutto volo, tutto volo! Tutto volo! Sei! Quando ti mo voli finisco in macchina ... Mamma mia, il fuoco si è spento! Wow! Non ho capito, ma io non ho capito... ... ... ... ... ... ... ... ... ma finiti ma non l'hai visto? oh mannaccio mh dai ma un colpo basta, un colpo basta con la mano di coppiii ahhh siiii è finisce qui questa, diciamo, questa giocata